Dottore Frontera, suo figlio Antonio ha ricevuto tanti premi, ma ne ha ricevuto uno anche in particolare qui a Crotone, che è un premio pitagorico. E siamo contenti sia che mia moglie di averlo potuto ricevere in nome suo. Suo figlio è un ricercatore, ma non si interessa solo di medicina, pur essendo un medico, si interessa anche di altri argomenti. Sì, astronomia ed elettronica. Quindi questo premio pitagorico rappresenta chiaramente quello che è il pensiero di Pitagora e quello che mette in campo suo figlio. Sì, senz'altro questo. Lui si interessa anche di astronomia, da quello che ho capito, quindi quando viene in Calabria viene anche a Savelli perché lì c'è un bello osservatorio. Sì, 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 va sempre a Savelli, gli piace guardare ancora le stelle, capire come sono fatte, capire tutto il meccanismo che c'è dietro. Ha ricevuto anche diversi premi per quello che riguarda la ricerca medica, infatti lui è stato in giro per l'Europa e questo significa che fa il suo lavoro con passione. Sì, è stato premiato come secondo miglior ricercatore al mondo presso l'Università di Boston al congresso ultimo di quest'anno. Ha fatto tante esperienze in Europa, vero? Sì, è stato presso l'Università di Bordeaux in Francia, dove è il miglior centro di ricerca per la fibrillazione atriale. Quindi fa parte di quei medici che vanno alla scoperta delle novità, del know-how per la medicina. Sì, senza altro. Ultimamente ha avuto modo di fare una ricerca che è stata citata nei migliori congressi di elettrofisiologia e attualmente è anche membro della società dell'era come consulente.